Ciao amici benvenuti nel canale commentatore donna. Sarei molto felice se ti piace e condividi il video. Aspettando i tuoi commenti. Resta sintonizzato per le notizie più affidabili e aggiornate. Kanyaman lascia Budapest? Ecco un'ultima foto. Siamo arrivati alla fine della riprese della serie Disney Plus il Turco con Kanyaman e Greta Ferro. Il lavoro, anzi il duro lavoro che ha messo alla prova la resistenza fisica e psicologica di Kanyaman, è arrivato al termine. Ecco la foto con il sorriso di Kanyaman. Sul gruppo Facebook delle Yamanine, pagina sempre molto curata e che segue da vicino tutto il mondo di Kanyaman, leggiamo quanto segue. Yamanine care ecco che bel regalo che ci arriva oggi dal set di El Turco da parte degli addetti ai lavori. Un magnifico sorriso di Kanyaman che unito alle parole di Ernesto Pinto, ci confermano che il nostro ragazzone è stato sereno e in ottima compagnia, e che è stato sempre super concentrato sul lavoro. Veramente un bellissimo regalo oggi. Una foto che sembra dire, ecco la mia ultima foto sul set di El Turco, lavoro finito o quasi. Sì, un'immagine di Kanyaman che esprime tutta la sua gioia per un nuovo progetto portato a termine e che gli è costato, come sappiamo, tanta fatica. A questo punto attendiamo soltanto il ritorno in Italia di Cannes. La serie scritta da Kerem Deren e Cisila Zaltenim è stata girata a Budapest. Insieme a Kanyaman c'è l'italiana Greta Ferro, l'irlandese Chiara Norelli, lo svedese Magnus Samuelson, il britannico Will Kemp, il croato Slavko Sobin, il britannico David N.Y.K.L., il britannico Nigel Pilkington, il britannico Sai Bennett, la portoghese Madalena Ragao. Grazie a tutti.